Ben trovati da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo. Possiamo osservare nel corso di giovedì, ancora inizialmente bel tempo, ma sempre durante il pomeriggio si formeranno nubi torreggianti cumuliformi su Alpi, Vrealpi e parte della Drossale Appenninica, con queste celle temporalesche che marginalmente potrebbero coinvolgere anche parte della pianura padana. Possiamo osservarlo più nel dettaglio con più precisione con la mappa delle precipitazioni a scala europea. Difatti durante il pomeriggio guardate le macchioline blu con dei temporali dalle zone montuose verso alcuni settori della Valpadana in maniera invece più sporadica lungo l'Appennino centro-settentrionale. Nel dettaglio quindi in sintesi l'immagine dell'Italia, una bella giornata con il sole, inizialmente temperature estive o quasi qualche punta addirittura di 30 gradi sulla Sardegna, poi verso sera dei temporali su parte del nord Italia, comunque fenomeni fugaci. Tutti i dettagli precisi scaricando l'app di Trabi Meteo.